Ciao a tutti, ebbene se potete aver letto che ho avuto un incidente, è vero, ho avuto un incidente, e vi dico che potrà sembrare strano ma è un codice verde, è successo un anno all'ospedale, comunque mi hanno detto che la riposa, quindi domani dopo domani non potrò andare a scuola, lunedì andrò a scuola con le stampelle, e pensi che non ho messo quest'antenne, e ho praticamente una specie distorsione, però fa un piccolo male la distorsione, il giorno mi va a aumentare, quindi difficilmente ho tantissimo dolore alla e ho avuto un po' di dolore, ho avuto altre cose, oltretutto non mi stavo dicendo, ho avuto un incidente, bene si, male fa male, perché chi non è più forte della distorsione normale, stavo dicendo, è zero, ho perso il film, la scorsa, non avevano perso, non avevano più il video. Grazie. Grazie.